e adesso creiamo il bacio ecco fatto popolino, sicuro di averli presi tutti? ce ne sono soltanto tre in questa busta oh, ovviamente un po' quanti erano i baci incontrati all'inizio? beh, abbiamo messo nella busta uno, due, tre tre, quattro, cinque baci quindi se adesso ne abbiamo solo tre in questa busta qua